Allora, questo video non sarà lunghissimo Ciao a tutti ragazzi, qui da chi vi è adesso su un nuovo vlog, raga Allora, raga, diciamo che Fortnite in questo periodo sta andando un botto di moda Vabbè, che cazzo faccio adesso? Mi hanno cancellato un carnetto a 8.000 iscritti con 20 vlog pronti Non ho più idee, tutte le idee che avevo fatto ce le avevo sull'altro canale Ho pensato un'oretta lì, tranquillo E una delle tante idee era questa, costruire il C4 di Fortnite nella vita reale O almeno provarci Quindi raga, oggi siamo qui per costruire il C4 di Fortnite Allora, le cose che ci servono è una scatoletta in cartone Un filo, due scotch, una radio e un evidenziatore nero Allora raga, direi di incominciare a costruire il C4 di Fortnite Allora, io ho una foto qua Più o meno, raga, deve venire così ovviamente Più o meno, eh, non proprio uguale Quindi raga, io incomincio a costruire il C4 Grazie a tutti Grazie a tutti Cioè, allora io con tutta la sfiga del mondo Mi è appena finito lo scotch nero Cioè, io guarda, io veramente Ma io non ho parole, cazzo Ho preso questo scotch qua, raga Vediamo come va Grazie a tutti Ok raga, risultato finito Adesso ve lo faccio vedere Ok raga, abbiamo costruito il C4 Ovviamente, più o meno Guardate, ci ho messo anche il filo Come nella foto, vedete che c'è il filetto Lo scotch sopra E tipo, io lo so che non è una radio quella Però io ci ho messo questa perché c'aveva il coso lungo lì Quindi ok Guardate qua, ci ho anche disegnato il C4 lì Proprio come c'è scritto lì, vedete C4 Eccoci qua ragazzi Ovviamente, più o meno Più o meno Lo so a voi raga Ma a me piace veramente tanto Cioè Guardate qua Raga, se vedo tanto supporto in questo video Abbricherò un'altra cosa riguardante Fortnite Cioè raga, sono soddisfatto un botto Cioè, il filetto raga Mi piace un botto il filetto Cioè, guardatelo lì tutto tattico Quindi raga, spero che questo video vi sia piaciuto un botto Veramente Spero che vi sia piaciuto anche la C4 Niente, iscrivetevi Commentate Lasciate un like E noi c'è al prossimo video E noi c'è al prossimo video